Se pensiamo all'energia, immaginiamo una forza in grado di muovere oggetti e modificare spazi. Proviamo a cambiare prospettiva e pensare all'energia come all'impulso vitale che genera idee, pensieri, emozioni e azioni. Energy. Lezioni sulle energie che muovono il mondo. Al Maxi, otto incontri a ingresso libero con artisti e scienziati, intellettuali e giornalisti, imprenditori e politici, per parlare della forza creativa dell'energia. Intervengono L'energia di tutti Laura Boldrini, Ignazio Marino, Roberto Della Seta, energia civile Riccardo Luna, Paola Maugeri, l'energia fatta per me Energy. Lezioni sulle energie che muovono il mondo. Maxi. Dal 25 settembre al 30 novembre, ingresso libero. www.fondazionemaxi.it Artax.it Lezioni sulle energie che muovono ilramento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.